Stop a tutto il mondo dello sport fino al 3 aprile. È l'esito della riunione del CONI che si è tenuta nel pomeriggio a Roma, indetta dal presidente Giovanni Malagò e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle federazioni degli sport di squadra unitamente al segretario generale Mornati. Confermando che in ogni azione e circostanza la tutela della salute è la priorità assoluta di tutti, al termine della riunione il CONI, all'unanimità, ha stabilito che, tra le altre cose, sono sospese tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile 2020 e per ottemperare a ciò il CONI ha chiesto al governo di emanare un apposito decreto che possa superare quello in corso di validità firmato dal Premier Conte nella notte tra sabato e domenica. Appare scontato dunque che il Consiglio federale straordinario, convocato dal presidente della Federcalcio Gravina per domani, andrà ad allinearsi e sospenderà tutti i campionati fino alla medesima data, un provvedimento che metterà il punto anche ai contrasti insorti tra ministro dello sport, leghe di Serie A e asso calciatori, in particolare per i campionati professionistici. Sì, perché già oggi, in anticipo sul Consiglio federale e sull'Assemblea del CONI, è stata la Lega Nazionale Direttanti che, con apposito consiglio direttivo, ha anticipato la stessa decisione, fermando tutti i campionati di propria competenza a livello nazionale e territoriale fino al 3 aprile, con apposito comunicato. Il Consiglio direttivo ha inoltre autorizzato sin da ora il presidente ad adottare eventuali provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie e comunque contenuti in successivi provvedimenti legislativi. Dunque, almeno fino al 3 di aprile, stop ai campionati di Serie D, ai campionati organizzati dai comitati regionali e ai campionati giovanili, nonché sospensione del Torneo delle Regioni e della fase nazionale del campionato Juniores. Era necessario prendere una decisione coerente con il momento che sta vivendo l'Italia, ha dichiarato il presidente Cosimo Sibiglia, che prosegue. La tutela della salute di tutti coloro che sono impegnati nelle nostre attività, infatti doveva e deve restare l'obiettivo primario da raggiungere, ma anche il punto di partenza per considerare quale impatto poteva e può avere l'organizzazione delle tante gare che ogni settimana caratterizzano la nostra attività. È un contributo necessario che il mondo del calcio direttantistico italiano deve dare per superare il momento di difficoltà che sta attraversando la nostra nazione.